Prima udienza del processo a luci rosse, frutto dell'inchiesta Sapo Nara al Tribunale di Agrigento. Imputati e capi di imputazione. Ad Agrigento, al Palazzo di Giustizia, innanzi alla giudice per le udienze preliminari Francesco Provenzano, è approdato un processo a luci rosse. Sul suo tavolo il Pubblico Ministero Giulia Sbocchia ha appoggiato un foglio con la richiesta di rinvio a giudizio di sette imputati nell'ambito di un'inchiesta su un business legato alla prostituzione, che sarebbe stato praticato nel centro storico. Il giudice Provenzano si è accorto di alcuni difetti di notifica e ha aggiornato l'udienza al prossimo 2 febbraio, quando si pronuncerà sulle sorelle peruviane Marival Magali Mendoza Marrique, intesa Camilla, 50 anni, e Jacqueline Janina Mendoza Marrique, intesa Jackie, di 39 anni, e poi altre peruviane, Maria Cirilla Aucache Marrique, 81 anni, che è la madre delle due Mendoza, e Maria del Pillar Marrique Torres, intesa Pillar, 56 anni, poi la brasiliana Maria Valdirene Vieira de Oliveira, 51 anni, e poi Eugenio D'Agostino, 54 anni, di agrigento, e Giuseppe Salamone, 32 anni, anche lui di agrigento. Nell'estate del 2014, delle escort, tradotto dall'inglese accompagnatrici, sarebbero state invitate e accolte ad agrigento, come Valentina, Pepi, Gianna, Carina, Jessica, Peti, Giulia, Gisella, Irina, Betty, Jennifer, e Ludimilla, figlia della stessa brasiliana Vieira de Oliveira. I servizi erotici sono stati pubblicizzati sulla stampa e sul sito internet Bacheca Incontri Agrigento. Anche a telefono è stato spiegato ai clienti il tipo della prestazione sessuale, poi le offerte sul prezzo, tra i 70 e gli 80 euro pagati in anticipo, e poi l'accordo su dove e quando. Sarebbero state le due sorelle Mendoza, Magal e Janina, a reperire due appartamenti tra Via Saponara, 10 e Via Neve 54, dove decenni addietro è stato allocato. Che coincidenza, il cinema a luci rosse e ambra. Le due Mendoza poi hanno contattato escort ovunque in Italia, prospettando un impiego sicuro e bene pagato. E così sarebbe stato. Una quota degli incassi sarebbe stata versata alla madre 81enne delle Mendoza. L'angrigentino Eugenio D'Agostino sarebbe stato il compagno di una delle sorelle Mendoza e si sarebbe adoperato ad accompagnare le escort nei loro spostamenti, custodendo le chiavi degli appartamenti teatro delle scorribande sessuali. L'altro agrigentino, Giuseppe Salamone, inteso Oliver, si sarebbe invece reso utile nell'alloggiare le ragazze, spesso ospiti di altre escort già da tempo ad Agrigento. Le indagini della squadra mobile della procura di Agrigento, che il 20 giugno del 2014 sfociarono nel blitz Sapo-Nara e negli arresti, sono state avviate a seguito delle segnalazioni delle lamentele dei residenti delle stesse Via Neve e Via Sapo-Nara, indispettiti dal via vai di clienti nei due appartamenti presunti a luci rosse.